Buongiorno a tutti, sono Alessio Martinelli, agente immobiliare Remax della Polare. Oggi ci troviamo sul corso Mazzini, a un minuto da Tribunale e a 5 minuti dal corso Vittorio Emanuele. Quello che vi presenterò è un appartamento di due vari, completamente ristrutturato, venduto con l'arredo, ottimo per single, coppie e anche e soprattutto per investimento. Non perdetevi questa occasione, seguitemi così visioniamo gli immobili insieme. Qui la parola chiave è luce, dall'alto del suo quinto piano questa perla gode di un'illuminazione naturale che permette alla luce di raggiungere pressoché ogni angolo. Dall'ampio soggiorno con cucina alla camera da letto, senza tralasciare il bellissimo bagno e in quanto mai utile ripostiglio zona lavanderia, questo magnifico bivane si presta a svariate soluzioni. La faccia sul corso Mazzini poi, concede una vista davvero unica su una delle zone più fornite della città. Ci siete anche voi con me qui? Ragazzi non mi nascondo che quasi quasi me la compro io. Non aspettate troppo, chiamatevi. Ciao! Ciao! Ciao!